Vittoria sofferta ed importante per la Infodrive Capodorlando, quella ottenuta ieri contro il Basket School Messina, allenato da Pippo Sidoti, 79-75 il punteggio finale. Due punti fondamentali per i paladini, che rimangono così in testa alla classifica della Serie B interregionale, con due lunghezze di vantaggio su Viola e Ragusa, ieri vittoriosa a Barcellona. Un turno infrasettimanale con il sapore del derby, che nascondeva molte insidie per i paladini. Vuoi per l'avversario ostico e combattivo come il suo allenatore, vuoi per le fatiche della trasferta di Rende. Dopo un primo tempo in cui non si è vista la solita difesa attenta dei biancoazzurri con Messina, che chiudeva i primi 20 minuti in vantaggio di 8 punti. Sul 36-44, grazie ad un super di Dio, ecco che al ritorno in campo dagli spogliatoi i ragazzi di Cocce Bolignano ingranano la marcia giusta e tornano in gara. Due triple di Moltrasio e una di Mentonelli ricuciono lo svantaggio. Leo Marini imbuca la tripla del meno 2 a 45 secondi dal termine del terzo quarto e si va alla penultima sirena con il derby riaperto, 57-59. Ultimo periodo e subito Favali piazza la bomba del sorpasso, 60-59 e la infodrive non si guarda più indietro. Squadre stanchissime nella volata finale e quando sembrava chiusa con il più 8 segnato da Favali a 33 secondi dalla fine il solito di Dio, che chiude la sua gara con 32 punti con due triple, una di tabella riapre tutto, 77-75, prima dei due liberi della chiusura di Palermo. Da segnalare la solita ottima prova di Simas e Asaitis, 18 punti e 8 rimbalzi, i 14 punti di Leonardo Marini, i 12 di Moltrasio e gli 11 di Mentonelli. Prossimo appuntamento per la infodrive Capodorlando è il match di Piazza Armerina in trasferta domenica 21 gennaio alle 18. Un avversario molto temibile, anche qui sarà un'altra battaglia da provare a vincere.